E domani 8 marzo, festa della donna, ma già tanti oggi gli appuntamenti che si sono tenuti in città, nel capoluogo Alto Atesino, per festeggiarla. Vediamo. 8 marzo, festa della donna e si gioca ad anticipo. Già a partire da oggi numerosi gli appuntamenti. Workshop pomeridiani si sono tenuti al cortocircuito e al teatro Cristallo. Altri appuntamenti al liceo Pascoli con una mostra d'opere artistiche. Il cocktail da sballo a Villa delle Rose, l'angolo corpo-cuore-testa del consultorio familiare Aied e altre iniziative comprendenti manicure, shatsu, grafologia, lettura delle carte, angolo del tè e il book of girls alla biblioteca civica e della donna. Gasibo contro le violenze sulla donna sono stati piazzati da Forza Italia in Corso Libertà e dal Partito Democratico in Piazza della Mostra. Sempre nel pomeriggio è stato proiettato il film come l'ombra di Marina Spada a cura del centro documentazione della donna, l'associazione Donne Nissa e il centro per la pace di Bolzano. In serata al caffè plural, cena delle donne con menù dedicato, programma intenso sempre oggi di All of Girls in collaborazione con il comune di Bolzano e i centri giovanili. Due gruppi di ragazze si incontrano al PAP per la PAP festeggiando la giornata della donna con esibizioni di pop, danza orientale e modern dance. E se da una parte si festeggia la donna, dall'altra arriva una polemica per un manifesto pubblicitario, quello comparso ultimamente in alcuni punti della città che ritrae una bella ragazza a indossare un paio di occhiali. Accanto alla scritta, a caratteri cubitali, fidati, te la do gratis e più in basso, in piccolo, la montatura. Il riferimento è agli occhiali ma lo slogan può facilmente essere equivocato e offende le donne, come sostiene l'assessore comunale alle politiche sociali, Patrizia Trincanato, che invoca la rimozione dei cartelloni.